Sul rettangolo di gioco quante disquisizioni, quante moviole, quanti dibattiti, quante proteste con Camino D'Alessandro, direttore generale della Virtus Lanciano, per parlare degli assistenti di tribuna che è un'innovazione che state sostenendo con forza per risolvere parte della carella e soprattutto per rendere vita più facile agli arbitri. È assolutamente questo lo spirito, sì, assistenti di tribuna è un progetto in particolare, ci tengo a dirlo anche se poi lui fa finta sempre di defilarsi, in realtà del nostro presidente onorario Franco Maio, è ovviamente sposato integralmente da tutta la Virtus Lanciano, si chiama appunto assistenti di tribuna, ha anche un sito specifico che si chiama assistentiditribuna.it che è stato realizzato in collaborazione con il nostro partner tecnologico che è Wembleg ed è appunto un progetto che ha lo spirito principale di aiutare gli arbitri, questo vorremmo che fosse molto chiaro. Non è sostitutivo, non è alternativo, è integrativo e lo spirito è proprio quello di rendere la vita più facile agli arbitri ed evitare che ogni domenica, nel nostro caso della Serie B oppure lunedì nel caso della Serie A, ci siano i rituali, turni di lamentazione che poi toccano un po' a tutti perché è errare umano e lo spirito è proprio quello di tentare di sbagliare di meno. E allora poniamo che è un sabato, un sabato di campionato, quindi si arricchisce il numero di arbitri con due ex arbitri? Sì, è esattamente così, anche perché uno dei punti di forza del progetto secondo il nostro punto di vista è proprio quello di salvaguardare un patrimonio di esperienze e di competenze che è costituito appunto dagli ex arbitri che non sono più in età per scendere in campo per ragioni ovviamente di tenuta atletica e per raggiunti limiti di età e quindi vorremmo salvaguardare questo patrimonio di esperienza e trasferirli dal rettangolo verde alla tribuna dotandoli di una sorta di regia parallela e di tutti gli strumenti tecnologici dal punto di vista della ripresa a disposizione oggi e sono tantissimi e sono sufficienti per garantire una corretta visione di tutti gli angoli del campo sotto tutti i punti di vista. Quindi questi due ex arbitri che diventerebbero da arbitri di campo ad assistenti appunto di tribuna. Sarebbero un'integrazione dell'attuale quartetto arbitrale che nel frattempo in Serie A è diventato A6 e quindi andrebbero anche a permettere di eliminare i due giudici di porta che fra l'altro recentemente sono stati anche oggetto di dibattito visti i costi notevolissimi che comportano. Mi sembra che si parli di 1.200.000-1.300.000 euro. In caso di episodio dubbio dunque l'arbitro si rivolge agli assistenti di tribuna. Sì, il progetto prevede che si intervenga in alcuni casi importantissimi che sono quelli che poi determinano il risultato della partita. Il classico gol non gol, fuori gioco non fuori gioco, azione da rigore oppure fallo da rigore oppure fallo non da rigore e eventuali episodi clamorosi di condotta di gioco violenta. In questi casi che cosa succede? Quando c'è l'episodio contestato, se noi facciamo caso a quello che accade normalmente nelle partite oggi senza quindi l'ausilio tecnologico, succede che già il livello di protesta che si innesca determina una interruzione che va dai 20-30 secondi a volte anche più nei casi peggiori. Invece in pochissimi secondi, quando l'arbitro ha un dubbio, che cosa può fare? Si rivolge alla coppia di assistenti di tribuna che nel frattempo hanno già visto perché loro intervengono per conto loro su ogni episodio e quindi sono già pronti alla chiamata. Nel momento in cui sono chiamati, se le immagini oggettivamente certificano quello che è accaduto e loro due, la coppia di assistenti di tribuna, è d'accordo, quindi c'è una unanime decisione perché l'oggettività è tale da non lasciare margini di dubbio, interviene comunicando con il direttore di gara dicendo che è fuori area, la palla è entrata in porta, è punizione, fallo da rigore. In questo caso l'arbitro prende atto dell'oggettività della ripresa e determina a questo punto una decisione che è quella più corretta, la applica. Grazie.